Anche la musica ha la sua filiera di qualità, un percorso dalla nascita del progetto alla realizzazione di un brano musicale che trova il suo luogo di incontro in questo studio di registrazione a Margherita di Savoia. Il padrone di casa è Giuseppe Sammarone, compositore, arrangiatore, musicista e tecnico del suono, con la passione per la musica che lo accompagna sin da piccolo, sino a farla diventare la sua professione. Il marchio di qualità nella filiera della musica, soprattutto inedita, lo imprime proprio Sammarone. Il suo è un lavoro di mediazione con tutte le componenti, musicisti ed interpreti in particolare, che si incontrano nello studio di registrazione. Si discute, si analizzano quelle che sono le tracce eventualmente o comunque il brano da creare e si trovano sempre degli incontri, degli incroci e non è mai realmente tanto difficile. Più che altro non è difficile la presa diretta, quindi la registrazione diretta del gruppo, della voce, ma è normalmente la post-produzione che non è altro che il successivo lavoro, cioè quello che avviene normalmente dopo la registrazione reale degli strumenti o quello che sia la voce. Si trova sempre un incontro. Tra i progetti ai quali Giuseppe Sammarone sta lavorando c'è il brano Vivrò di te, scritto e musicato dai baresi Daniele Lanave, Raffaele Pellegrino e Tommaso De Filippis e due canzoni del gruppo I seguaci dell'Hobbit che faranno parte della compilation Mania Champions. In attesa di soddisfazioni future e collaborazioni con artisti già affermati nel panorama internazionale che transiteranno in questo studio di registrazione, ci sono i riconoscimenti del recente passato a certificare il lavoro di Giuseppe Sammarone. Sono sue le musiche di due cortometraggi, La ricerca e l'abbandono, firmati dal regista margheritano Salvatore Lanotte, il primo vincitore del Giffoni Film Festival nel 2012, il secondo vero e proprio affresco sul problema dell'Alzheimer.